bella regà qua è savix che vi parla bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale oggi duplicazioni ragazzi senza targa personalizzata quindi requisiti l'arena ragazzi un amico che ci dà una mano dentro l'officina dell'arena la issi da duplicare i voicoli da sacrificare ragazzi e la moto di bennie la fc 1000 quella lì che adesso vi faccio vedere quindi a questo punto cosa dobbiamo fare ragazzi dobbiamo richiamarci un veicolo personale la cosa bella di questa duplicazione raga non dovremmo baggarci non dovremmo fare il bug iniziale e faremo auto pulite con targhi diverse se volete potete fare anche la stessa duplicazione senza primo passaggio la farete massiva però serviranno le targhe personalizzate quindi fate salire un vostro amico ragazzi sul vostro veicolo personale ed entrate dentro l'officina dell'arena che dentro dovete avere sia la moto ragazzi per baggarvi sia il veicolo da duplicare sia il veicolo da sacrificare quindi cosa facciamo una volta che siamo dentro l'arena ragazzi ci dirigiamo dalla moto una volta che siamo ragazzi dalla moto che è questa ragazzi cosa dobbiamo fare la trovate comunque nell'arena costa poco non costa tanto raga a questo punto saliamo sulla moto schiacciamo freccia destra e una volta che siamo dentro l'officina ascoltatemi bene cosa dobbiamo fare clicchiamo due volte aux a seconda se giocate la play da xbox e quando siete in questa schermata ragazzi tenete premuto il tasto touchpad o il menu di pausa e cliccate una volta a appena ragazzi in alto a destra vedete i numeri rossi comparire dovete rilasciare il menu di pausa e aspettate cinque secondi in questa schermata quindi cliccare bio cerchio una volta e spammare a o x se giocate la play e se spawnate in piedi vi siete buggati raga non è difficile è facile se guardate i numeri rossi appena spuntano i numeri rossi raga a mollate il tasto del menu di pausa per farlo aprire vi buggate immediatamente guardate bene la targa raga che inizia con 6 6 quindi a questo punto cosa facciamo andiamo dal cerchietto azzurro dentro il piano dell'officina ragazzi e andremo a sostituire il veicolo quindi selezioniamo la isi ragazzi e la andiamo a sostituire con la rh8 quindi la lg a questo punto una volta selezionato facciamo b ragazzi per uscire da questo menu e andiamo sulla isi ragazzi se fate questo glitch senza l'amico che sta sul veicolo personale all'inizio cosa succede potete farlo massivo sostituite più veicoli ma poi hanno le stesse targhe quindi guardate bene appena io esco dall'arena ragazzi con la isi cosa succede sbada bam cambierà la targa e avremmo fatto la isi pulita cosa dovete fare ragazzi ora vi chiamate il com e andate a salvare il veicolo all'interno del com comunque a questo punto io vi voglio anche informare ragazzi e ricordare del nuovo format che esce una volta alla settimana esplorazioni di castelli ragazzi posti abbandonati tunnel e chi più ne ha più ne metta ragazzi quindi a questo punto cosa dobbiamo fare se vogliamo continuare a duplicare usciamo con questo veicolo ragazzi in modo da averlo come veicolo personale attivo e una volta che siamo fuori di qua ragazzi ci mettiamo già vicino l'arena vi mettete uno spawn come volete voi quindi una volta arrivati qua ragazzi scendiamo dal veicolo da sopra al veicolo comunque apriamo il menu di pausa e ce ne andiamo al creatore perché perché se entriamo dentro l'officina ragazzi che siamo praticamente buggati da prima non vedremo nessun veicolo all'interno quindi andate al creatore una volta che si tacca creatore vi fate mandare un avvito dal vostro amico ragazzi e tornate in lobby una volta che siti in lobby cosa dobbiamo fare i petrisi si steppe di prima ragazzi quindi facciamo salire ragazzi il nostro amico sul veicolo nostro personale una volta che avete fatto salire il vostro amico raga anche se morite non succede niente vi dirigete all'interno dell'arena vi lascio anche ragazzi in descrizione quella massiva per fare un veicolo ogni 20 secondi nel caso qualcuno se l'è persa ragazzi vi invito anche a controllare le playlist dei vari outfit regà perché vedo che altri youtube portano gli outfit li ringraziate ma io li ho già portati mesi e mesi fa e stanno nella playlist quindi ragazzi guardate vi faccio vedere di nuovo la targa questa è 6 6 a questo punto cosa faccio vado sulla moto ragazzi una volta che sono sulla moto ci salgo freccia destra entro nell'officina clicco due volte a una volta che sono in questa schermata tengo premuto il menu di pausa ragazzi clicco una volta a appena vedo la scritta rossa in alto a destra mollo il menu di pausa in modo che si apre attendo 5 secondi e a questo punto spammo a o x se giocate da play ragazzi e se spavate in piedi ci siamo buggati andiamo dal cerchio azzurro ragazzi e sostituiamo la isi con il veicolo da sacrificare a questo punto una volta sostituito salite sulla isi ragazzi e uscite appena uscite come vedrete vi cambierà la targa e metterà la targa del veicolo che avete usato per sacrificare a questo punto ragazzi vi chiamate il vostro com e vi andate a salvare il veicolo quindi ragazzi che dire se vi è piaciuto questo video lasciate un like lasciate un commento supportate savix supportate il canale iscrivetevi su instagram dove posto la mia vita privata se vi interessa e alla prossima bella regà sbada bam ciao 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 ciao